mi trovo alla parrocchia di santa sofia sulla boccea non vi potete immaginare le migliaia di persone di pacchi che ci stanno ho parlato con parroco e ha detto che più che medicinali mangiare o vestiti mi occorrono mezzi per portare tutta questa montagna di roba per lo meno in polonia perché se guidare a portare qui roba direi inutile in quanto che c'è rischio e vada male prendermi conto di quante cose sono riusciti a portare i romani e anche gli ucraini praticamente tutto è bloccato non si può nemmeno entrare per scaricare